Una presenza discreta ma essenziale. Francesco Di Martino, anestesista 65enne all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, è mancato lunedì all'affetto dei suoi cari e dei colleghi dell'Ulss 6 e Uganea, che lo ricordano come medico sempre presente e scrupolosamente dedito ai suoi pazienti. Aveva continuato ad esercitare il suo lavoro nonostante la malattia con cui combatteva da tempo, in prima linea anche durante l'emergenza Covid, nonostante le difficoltà che la malattia gli metteva di fronte, ricorda il dottor Fabio Baratto, primario di anestesia e rianimazione a Schiavonia. Ha fatto sempre prevalere la sua dedizione totale, chiedendo spontaneamente di poter continuare a fare le guardie pur potendo esserne esonerato, incoraggiando i colleghi a non mollare e mettendo la sua lunga esperienza a servizio della rianimazione anche durante l'emergenza sanitaria dei mesi scorsi. Appassionatissimo al servizio sia in rianimazione che in sala operatoria ci teneva a dare il suo massimo contributo, lavoro di squadra ma in silenzio, lontano dalla luce della ribalta come in questa foto d'archivio scattata un anno fa con l'equip chirurgica e anestesiologica al termine di un complesso intervento di termoablazione. Il dottor Di Martino sta ai margini, il primo da sinistra in uno schieramento di professionisti che oggi si uniscono nel dolore a moglie e figlie e si addolorano per la sua prematura scomparsa.